Domenica difficile? Molto difficile. Pensavamo tutt'altro risultato, però questa è la pallavolo. Noi il nostro l'abbiamo fatto, forse non si è sentito ancora abbastanza bene. Speriamo sempre che il palazzetto ci dia una mano, ma c'è sempre più silenzio nel palazzetto a parte noi. Secondo me non voglissero sarebbe molto meglio. Però almeno abbattere le mani, aiutarci per far sentire un po' di calore ai nostri ragazzi sarebbe apprezzato. Noi continuiamo, li seguiamo sempre ovunque, continuiamo, ci crediamo e basta. E viva Forza Mondovì!